Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Tramide così non potrebbe essere. Sì che può essere più strano. Mi sono appena lavato le mani, per questo sono bagnate. Nessun'altra ragione? Ok. Chi è Daniele Delisi? Daniele Delisi è una persona curiosa, una persona che spazia dall'arte all'elettronica con un'annoscialanza che lascerebbe un po' interdetti effettivamente perché ci sono cose che non c'entrano niente tra di loro ma siccome sono una persona curiosa mi sono buttato in tante direzioni contemporaneamente nel corso della mia vita. Quando ho focalizzato finalmente che cosa volevo fare a livello di mestiere e quindi ho deciso di iniziare a studiare come attore e allora ho preso questa strada cercando di preservare un po' le mie passioni, le altre passioni che sono appunto l'elettronica, l'informatica e altre cose che mi accompagnano nel quotidiano ma cercando di diventare piano piano quello che poi sono adesso cioè un doppiatore, un attore doppiatore. Quindi fondamentalmente mi definisco una persona curiosa secondo me è la cosa migliore per inquadrarmi. Allora, sei doppio attore dando l'emozione che quando ti trovi su un palco perché chiaramente il teatro a volte c'è chi lo ama ma a volte poi in realtà non lo ama tanto però salire sul palco e avere delle persone davanti che cercano o vivono quelle emozioni che tu esprimi poi belle, brutte, allegre e loro che sensazione proprio ma soprattutto che faccia e vedi e come provi quell'ambito. Guarda, ti dirò il rapporto che ho col palcoscenico è ibrido un po' di amore e odio perché l'amore viscerale perché stare sul palco è tutto un altro tipo di lavoro rispetto a quello del doppiatore quindi sei tu contro il mondo fondamentalmente e ti metti totalmente in gioco sperimentandoti e ascoltando un feedback da parte del pubblico che può essere... che normalmente non vedi perché se c'hai riflettori contro tu al massimo vedi una zona nera perché i riflettori comunque giocano a tuo favore in questo senso e la sensazione che io personalmente provo quando sono sul palco è di emozione, di eccitazione ma allo stesso tempo proprio perché mettersi continuamente in gioco lo vivo sempre soprattutto alle prime durante le prime repliche come più una sfida una sfida che mi piace e non mi piace poi mi butto inizio a recitare e allora a quel punto mi sciolgo ma io mi ricordo che ogni volta che metto piede alla prima di qualsiasi spettacolo la prima cosa che mi chiedo è ma chi me l'ha fatto fare? è una costante una costante di cui però sento stranamente poi l'esigenza quindi mi contraddico ma è questo il gioco continuo cercare il gioco il cercare questa esigenza che hai dello stare in scena e lottare anche contro le tue paure le tue timidezze perché questo questo avviene perché è inevitabile ti scontri con la tua con la tua emotività con le emozioni che provi anche la giornata storta quello che può capitare nella giornata di qualsiasi persona e in quel momento ti devi annullare ti devi affidare a te stesso e ai tuoi compagni di scena e giocare fondamentalmente giocare quindi un mix un purpurri di emozioni fondamentalmente col doppiaggio invece è un po' diverso perché sei tu da solo devi seguire un attore quindi c'è già una scena che è stata recitata quindi devi rispettare l'attore devi cercare di seguirlo ti lasci guidare c'è un direttore di doppiaggio che ti ti guida insieme all'assistente insieme al fonico un lavoro di squadra anche il teatro è un grandissimo lavoro di squadra ma l'approccio è molto molto differente quindi fondamentalmente è questo hai fatto tanti personaggi nel campo animato però sono tutti comunque personaggi piccoli i buffi i spiderman il nuovo universo turbo cioè hai l'abitudine di fare piccoli personaggi piccoli io parlo di dimensione grandezza fisica ah in questo senso no nel senso considera che anche la pagina che probabilmente stai guardando non è aggiornatissima io purtroppo in questo mea culpa perché non non aggiorno frequentemente non do tantissime informazioni e qua adesso mi ricollego a un grande dramma della mia vita nel 2021 cioè non amo particolarmente anche se sono un appassionato di elettronica di informatica di internet ma non amo particolarmente stare su internet però capisco anche che siamo nel 2021 e quindi questa cosa me la devo fare piacere in qualche modo quindi dovrei aggiornare effettivamente rispetto alle cose le ultime cose che ho fatto ma in linea di massima sì sono personaggi caratterizzati o comunque sì in questo caso a livello di dimensioni è un caso effettivamente non è non penso sia voluto almeno credo spero come è cambiato il mondo dell'oppeggio da quando è iniziato oggi ma soprattutto negli ultimi tempi visto che già era difficile assistere come ragazzi che vogliono imparare ad assistere al doppiaggio perché il doppiaggio è studio ma anche osservazione riuscire a carpere ai professionisti qualcosa in più che ti possono dare è cambiato dal mio punto di vista tanto purtroppo perché quando ho iniziato io a questo punto dico mi reputo fortunato ho avuto la possibilità di assistere per due anni in assoluto silenzio insieme a grandissimi doppiatori che mi hanno ovviamente fatto apprendere questo questo lavoro questo è un mestiere che si che si fa si impara a fare in maniera artigianale si parte da una base attoriale possibilmente e si va perfezionando vai migliorando nel corso del tempo la fase in cui assisti e guardi gli altri attori professionisti gli altri doppiatori professionisti che fanno questo lavoro da tantissimi anni è importantissima dal mio punto di vista ma tra il discorso della pandemia poi anche le società che si sono un po' chiuse per un discorso anche di accordi di riservatezza quindi il materiale che non può essere visionato da persone esterne alla lavorazione stessa insomma si è complicato un po' tutto fondamentalmente e si perde un passaggio secondo me fondamentale perché i ragazzi hanno bisogno di assistere guardare quello che fanno i professionisti capire dove si può sbagliare dove è meglio correggere il tiro quindi è una parte del tirocinio importantissima che viene a mancare in questo periodo temporaneamente per il discorso pandemia sono nate altre realtà altri modi di proporsi ai direttori che va spazia dai semplici audio audio file audio inviati ai dabril però purtroppo è una soluzione temporanea perché comunque un dabril non permette al direttore di vedere quanto tu sia realmente reattivo all'eggio e quindi quanto tempo impieghi a realizzare una scena perché magari ecco nel video si vede una cosa perfetta e magari hai impiegato 15 incisioni per ottenere quella quella quel risultato però temporaneamente non si può fare altro non si può assistere non si possono chiedere provini quindi è un una situazione temporanea che ha cambiato radicalmente tutto anche per chi lavora da tantissimi anni perché anche le pubbliche relazioni non si possono più fare che sono la base del nostro mestiere continuare a lavorare farsi vedere i direttori si ricordano di te specialmente quando sei ancora poco conosciuto quindi questo è un passaggio fondamentale purtroppo non è il periodo migliore per per iniziare e forse anche per ingranare dopo un tot di anni che si fanno turni comunque si lavora si sta nell'ambiente è un passaggio che sacrifica molto il lavoro di tutti noi purtroppo e abbiamo notato che ci sta c'è la sensazione non c'è la sensazione il fatto che bisogna rispettare determinati range la forma d'onda nei videogiochi la forma d'onda è essenziale ma anche nelle serie tv anche soprattutto come Netflix e tante altre plateforme ti dicono devi rientrare in quella scena se sarebbe qualcuno ha detto se c'è la risata bisogna farla se non c'è ma esteticamente si vede però non c'è non la devi fare cioè sarebbe bisogna rientrare in determinati o per probabilmente una questione di conformità con tutte le varie traduzioni che vengono fatte sì diciamo che si stanno sommando una serie di compliche si sta sommando una serie di complicazioni di complicazioni che mette a dura prova il nostro lavoro perché ci sono delle variabili in più che in realtà diciamo sono discutibili noi siamo il lavoro migliore da fare nel corso del doppiaggio è guardare gli occhi dell'attore del doppiatore cercare di seguirlo e cercare di restituire la stessa emozione tradotta in un'altra lingua perché ovviamente noi ci esprimiamo in maniera completamente diversa seguire una forma d'onda a volte è veramente riduttivo appiattisce quello che è il processo creativo e di adattamento dell'attore alle emozioni che l'attore sta esprimendo in quella scena quindi le due cose non corrispondono sempre il discorso secondo me sarebbe molto più ampio ci sarebbe bisogno di un dibattito perché il doppiaggio fatto in Italia è sempre stato riconosciuto come il migliore al mondo sarebbe opportuno visto che abbiamo tantissima esperienza in questo campo sarebbe opportuno aprire un dibattito e un confronto per far capire come abbiamo sempre lavorato noi e cercare di far capire ai clienti che c'è una modalità che restituisce qualitativamente un prodotto decisamente migliore rispetto alla semplice seguire della forma d'onda che poi alla fine si traduce in uno spettro che si ha uno spettro audio che si l'ampiezza che aumenta diminuisce non è molto indicativo ci sono tante variabili c'è la prossemica dell'attore quindi la distanza che c'è tra i due attori che stanno parlando e quindi il motivo per cui tu devi portare la voce la devi portare di meno quindi ridurre tutto a una forma d'onda è molto limitante nei videogiochi per esempio questa cosa è quasi obbligatoria perché nel processo creativo di elaborazione di creazione dei videogiochi spesso in fase di registrazione non c'è il prodotto finale ma c'è il prodotto registrato quindi in attesa di e sarebbe opportuno avere già le immagini ma in attesa di avere un prodotto più definito si segue una traccia audio già registrata come come guida ma spesso almeno come videogiocatore spesso mi sono accorto che non corrisponde l'emozione data magari da una un urlo dato in un modo con la scena reale perché magari appunto il doppiatore in quel momento sente in lingua originale una cosa fatta in un determinato modo e poi in fase di elaborazione grafica quella scena è ridotta a una distanza che non giustifica una voce così un volume così alto quindi diciamo cerchiamo sempre di adattarci a queste situazioni ed è secondo me sempre un processo perfettibile che si può migliorare nel tempo e secondo me la collaborazione con i i clienti con il passare degli anni e si spera appunto che siano anzi forse con il passare dei mesi e che non diventino anni sarà fondamentale per la riuscita finale di un prodotto confezionato secondo me nel miglior modo possibile quindi possiamo dire in alcuni casi che è perfettamente tecnicamente perfetto cioè entra in tutto però il doppiaggio è piatto il rischio c'è perché specialmente quando un attore si ritrova a dover recitare delle scene e allora lavori però non hai il video è lavori di fantasia allora o hai dietro una persona che ha una visione di insieme del tutto e ti guida però sperando che abbia visto il prodotto semi finito prima e quindi ti affidi sperando che la scena poi venga restituita nella maniera più coerente possibile oppure il rischio è di registrare una cosa che non sarà mai coerente con le immagini che poi si vedranno ma questa cosa in particolar modo nei videogiochi nei film è ancora per fortuna curata questa cosa è più seguita ma anche lì ci sono grandissime difficoltà spesso arrivano in sala delle lavorazioni completamente censurate schermi completamente neri che si che fanno aprire una bollicina sulla bocca dell'attore mentre sta parlando che poi si richiude non facendoti vedere tutta la scena non facendoti capire fondamentalmente nulla e lì ti puoi soltanto affidare al direttore che prima ha visto il film e che allora qui sì c'era una scena qua dovrebbe succedere questa cosa diventa tutto molto più complicato è una cosa veramente difficile da gestire nel complesso cerchiamo di fare il meglio ovviamente in collaborazione più che possibile con i clienti chiaramente con le esigenze dei clienti è mai capitato di passare camminare a un certo punto qualcuno ti ha sentito parlare e ti ha detto si è girato e ha detto ma tu sei quel personaggio mi sembri mi sembri quello mi è capitato mi è capitato un paio di anni fa di andare a Napoli di essere di prendere la camera di un B&B con mia moglie e praticamente quando ho detto abbiamo detto le nostre professioni mia moglie è una regista io sono appunto un attore doppiatore questo ragazzo ha spalancato gli occhi perché mi ha detto tu hai la voce simile a Spider-Ham ho detto guarda sono io che l'ho doppiato in quel punto è impazzito ha detto a memoria tutte le battute del mio personaggio del film e io sono rimasto senza parole perché non non credevo fosse possibile imparare o affezionarsi così tanto a un personaggio a tal punto da riconoscere il timbro della voce e a sapere anche le battute a memoria di punti diversi del film perché poi tra l'altro questo personaggio entra verso la metà del film quindi per buona parte per la prima parte non c'è quindi è rimasta particolarmente nella testa di questa di questa persona adorabile che in quel momento ha aperto una diretta a Instagram si è fatto un video si è fatto un video e mi ha voluto coinvolgere nella sua diretta quindi sì mi è capitato è un'esperienza stranissima bellissima molto molto piacevole ma inaspettata per quanto mi riguarda tra i tanti personaggi che hai fatto qual è quello che ti ha dato più soddisfazione ma ti ha messo tanta difficoltà nel poterlo fare però alla fine hai detto oppure quello che in realtà pensavi non non fosse grande successo ma in realtà ti ha dato ancora più successo di quello che pensai allora forse il più difficile ma soltanto dal punto di vista tecnico perché urlava tantissimo è un personaggio che ho fatto in Teen Wolf Donovan se non ricordo male si chiamava e questo personaggio in tante scene urlava tantissimo ora fin quando è un urlo vabbè lo fai e poi vai vai avanti ma quando si tratta di scene in cui ci sono squartamenti oppure sevizie torture e a quel punto comincia a diventare diciamo importante allora lì la difficoltà è doppia perché devi cercare di non sgolarti completamente per poi registrare le scene successive o se non hai scene successive perché magari in quel turno ti finisce proprio male devi preservarti per poi riuscire a fare il turno successivo se hai altri turni o altri turni nella stessa giornata quindi a livello di difficoltà tecnica quella quello sicuramente è un personaggio che ho memorizzato bene dal punto di vista della della soddisfazione probabilmente è il personaggio di Simon in Harrow questa serie che ho fatto diretta da Alessandro Quarta in cui diciamo mi sono sperimentato in questa in questa serie tv in questo in questa sì in questa serie tv in cui faccio da spalla a questo anatomo patologo e ho avuto modo di lavorare tanto con Alessandro proprio per proprio in questa in questa in un ambito completamente diverso insieme ad Alessio Ciliano che è il protagonista e quel quel modo di lavorare anche perché mi piace tanto lavorare con con Alessandro mi ha mi ha fatto capire tantissime cose sul proprio sul puramente un discorso puramente tecnico sul come gestire le emozioni come gestire anche il momento in cui c'hai una devi chiudere la lavorazione perché sono arrivata delle correzioni allora bisogna fare dei cambiamenti quindi tante situazioni diverse e quella quella lavorazione in particolare mi è rimasta particolarmente nel cuore questo sì poi ce ne sono tante altre ma ci sono piccoli aneddoti sparsi un po' ovunque nelle cose che ho fatto ma questi due esempi per me sono abbastanza eclatanti diciamo i direttori di doppiaggio che con cui hai lavorato e con cui lavori qual è quello un po' più pignolo e quello che pignolo intendo che comunque vada è meticoloso attento e quello che invece in realtà poi sembra tanto poi quando sta lì ogni volta ti stuzia dicendo sì sì fai questo fai quello ma guarda ne prendo uno come esempio ma diciamo ho lavorato un lavoro con tanti direttori quindi si potrebbero prendere tanti aneddoti o tanti esempi perché ogni ogni direttore ha un modo diverso un approccio diverso al al rapporto con l'attore quindi anche con richieste diverse pur utilizzando un linguaggio comune un po' a tutti ritornando su Alessandro Quarta io mi ritrovo particolarmente bene con lui anche perché ho studiato insieme a lui e quindi mi piace mi stimola perché riesce a utilizzare un linguaggio che abbiamo in comune e che mi permette di capire al volo quello che lui mi chiede e a lui di capire il mio stato lo stato in cui mi trovo in quel preciso momento in cui sto registrando e se c'è una difficoltà sa come dirmi e come risolvere il problema quindi con lui riesco ad avere un 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 feeling bello e produttivo ma anche perché ripeto ho studiato ho studiato insieme a lui quindi si è creato un rapporto nel corso del tempo che mi agevola da questo punto di vista ma ogni direttore c'è un linguaggio e un approccio diverso la cosa bella del lavoro comunque dell'attore è che devi cercare sempre di trovare una di adattarti a situazioni completamente diverse a richieste completamente diverse perché magari un direttore ti dice guarda questa cosa la vorrei un po' più così e ti dà delle indicazioni che sul momento possono sembrare criptiche non proprio limpidissime nell'immediato però poi magari il linguaggio è più sull'emozione piuttosto che sulla parte tecnica vera e propria quindi non c'è una preferenza vera e propria nel se avessi la possibilità di scegliere una rosa di nomi c'è però una volontà sicuramente da parte mia di mettermi in gioco e cercare di capire sempre quali siano le richieste come interpretarle come restituire il comando interpretato da me ovviamente ti posso dire ti possono dire guarda questa farmela sto esagerando sto facendo un esempio questa scena è un po' così fammi questa battuta un po' più più blu che magari in quel momento non ti arriva però magari il concetto richiama un'emozione una sensazione e la cosa bella è adattarti e cercare di capire cosa possa significare una richiesta di questo tipo a livello di emozione a livello tecnico normalmente tra l'assistente il fonico il direttore si trova la quadra e quindi se c'è una cosa tecnica da correggere si corregge ma quando si tratta di interpretazione la cosa diventa un po' più complicata più più complessa ogni direttore ha il suo linguaggio ed è bello scoprire come arrivare a quella quel risultato tramite strade diverse il lavoro dell'attore fondamentalmente che è lo stesso poi anche con con i registi un po' collega mi ha detto quando gli ho detto scherzatamente che lavoro fai perché spesso quando si parla di un musicista di un attore o di un cosa quando loro dicono eh io lo sai faccio l'attore sto in teatro faccio musicista sto sul palco sì ok ma che lavoro fai e lo metto io in realtà faccio tutti i lavori poi alla fine e qualcun altro tuo collega metto è come sedere sulla seggio del psicologo e fare tutte le vite però in realtà poi sono però pagato la differenza così sì fondamentalmente è vero vieni pagato per parlare ed è bellissimo perché se prendi io mi auguro che tutti i giovani che hanno intenzione di prendere questa strada si buttino in questa direzione il segreto è giocare quindi fondamentalmente se volessimo ridurre il tutto a un concetto più semplice il nostro è un lavoro in cui giochi fondamentalmente giochi sempre se è possibile ti devi anche divertire se non è possibile comunque devi vivere la dimensione emozionale per cercare appunto di arrivare dove ti chiedono di arrivare ma fondamentalmente è un gioco un gioco bellissimo per quanto mi riguarda di cui sento sempre l'esigenza di cui sento quotidianamente l'esigenza e di cui non potrei fare assolutamente a meno è una la stessa sensazione che una persona può avere come quando respira tu hai bisogno di respirare e hai bisogno nel mio caso io ho sempre bisogno di giocare per sentirmi vivo per relazionarmi con gli altri e il mio lavoro non riuscirei a identificarlo e a ritagliarlo facendogli appunto una cornice attorno per dire questo faccio soltanto questo no nel processo creativo possono venire fuori tantissime cose quindi siamo dei creativi fondamentalmente siamo dei creativi e veniamo pagati per essere dei creativi avere una regista come moglie ti ha mai diretto? sì 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 mi ha diretto e tra l'altro per per scelta per scelta di entrambi abbiamo deciso di almeno poi magari questa cosa non sarà definitiva di non lavorare insieme perché io e lei abbiamo spesso idee diametralmente opposte poi al 90 al 95% il 95% delle volte ha ragione lei e questo fa parte anche del gioco e poi perché è una donna spesso le donne hanno sempre riescono a cogliere prima riescono ad avere l'intuito prima di noi di noi maschietti ma è difficile è difficile riuscire a lavorare almeno per quanto riguarda me perché nel momento in cui ti rapporti con tua moglie con la persona che conosci noi stiamo insieme da tantissimi anni ormai sono 18 anni praticamente non è facile non è facile riuscire a completamente dividere le due cose allora per serenità mentale mia e sua io poi a un certo punto ho preso la decisione ho detto forse è meglio di no poi magari in futuro ritornerò sui miei passi e sarà di nuovo divertente magari come prima ma comunque preferisco che le nostre almeno in questa in questa fase che le nostre strade siano dal punto di vista lavorativo divise secondo me è più sano per quanto mi riguarda allora saluto come Daniele sicuramente grazie per essere stati in nostra compagnia spero sia stata un'intervista piacevole che la compagnia sia stata piacevole grazie grazie a te di avermi chiesto questa questa intervista che insomma mi sono trovato benissimo in tua compagnia e niente dal punto di vista della voce di scatter vi saluto anche con la voce di uno dei personaggi di helpsters ciao studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro si che può essere più strano mi sono appena lavato le mani per questo sono bagnate nessun'altra ragione ok grazie a tutti